Una delle più belle definizioni di classico l'ha data Giuseppe Pontigia, uno scrittore oggi che si tende a dimenticare, un grande scrittore italiano. I classici per lui erano i contemporanei del futuro, sono i contemporanei del futuro. È difficile dopo Pontigia dare una definizione altrettanto esatta di un libro che è scritto in un tempo lontano o forse in un tempo abbastanza vicino ma che sta parlando proprio a noi. Da qualche parte nel tempo c'è qualcuno che vivendo una dimensione sociale, politica, personale completamente diversa dalla nostra ha ideato un libro dentro cui indipendentemente dal contesto, dall'ambientazione noi ritroviamo un percorso formativo, una verità, un'intuizione, una suggestione che parla direttamente a noi. Ma siccome il mio compito qui è provare a dare io stessa una definizione, salgo io una netta sulla spalla di un gigante come Pontigia e appunto provo a dire che è un classico non soltanto è un contemporaneo del futuro ma è un gioco d'azzardo che si fa in un determinato momento storico ipotizzando che un libro possa sopravvivere a chi lo scrive. Ovviamente non c'è consapevolezza in questo processo, non c'è un momento in cui uno scrittore dice se non forse spero con un po' di autoironia di star scrivendo qualcosa che deve sopravvivere, ma c'è un'inconsapevolezza onirica forse, semplicemente di sfida, forse di sfida con se stessi che è quella di mettere su pagina una storia che in quel momento sembra molto contemporanea in realtà, che sembra parlare esclusivamente del presente. La meraviglia del classico è sopravvivere a tutto, resistere a tutto e poi a un certo punto subire un oblio perché la storia che noi studiamo, la storia della letteratura è anche la storia della ricezione dei libri e la storia della letteratura è anche storia dei lettori e qualche volta i lettori amano tantissimo subito un libro e poi lo dimenticano, altre volte i lettori non amano, non accettano un libro perché è scandaloso, perché non ne comprendono l'anima più profonda, perché si sentono poco raccontati, perché si sentono troppo raccontati e quindi non lo accettano e quel libro a un certo punto rispunta, come un libro che magari non ha avuto tanta fortuna ma che a un certo punto viene riconosciuto come classico, oppure sta lì sempre con una fortuna e una sorte media presso i lettori però inestinguibile, oppure ancora gode di tantissima fortuna e poi a un certo punto scivola nell'oblio, è divertente, è interessante soprattutto vedere la storia dei classici secondo la ricezione che ne è stata fatta dai lettori e quindi immaginare che di questo gioco d'azzardo inconsapevole da qualche parte ci sia uno scrittore che si gode il risultato.